C'è troppa precarietà. Hai dei figli? Sì, ne ho due. Tua moglie lavora? La moglie attualmente lavora e teniamo ancora in piedi il... Hai una casa di proprietà o sei in affitto? Sì, per fortuna ho una casa di proprietà. Mutuo pagato? Sì, mutuo pagato. Mutuo? Mutuo sì, ancora per sei anni. Che indicazioni dareste alle persone che conosci, sia per quanto riguarda la Fiat, sia per quanto riguarda le iniziative da fare? Le iniziative da fare è continuare ad andare avanti e lottare, non fermarsi. Io dico ai giovani di continuare, cioè di non fermarsi, continuare a lottare perché io non vedo nessun futuro per i giovani. Nella tua vita privata, lavorando, hai acquisito qualche ruolo? Eh, nessuno. Però sei autonoma? Sì. Il tuo marito è d'accordo con i tuoi figli che tu venga qua? Sì, certo. Non fanno storie? Ho visto che stasera hai anche preparato il pranzo, la cena, diciamo. Sì. Tu hai problemi in famiglia perché sei presente qua? No, se si fa uno sforzo di questa iniziativa, che siamo partiti dal mese scorso, è perché vogliamo arrivare fino a fondo a questa situazione. Ci mettiamo qui a fare il presidio anche per, diciamo, come posso dire. Cioè tu, secondo te quindi bisogna lottare nella vita per ottenere le cose? Secondo me sì. Quali idee hai da restituire ai tuoi figli ai giovani in questa fase? Io darei un consiglio a questi giovani, ai miei figli, di non abbattersi, di continuare, cioè, di andare avanti sempre a testa alta e di continuare, cioè, la dignità non si deve avere. E quindi anche questa è la dignità, diciamo, vede tutti questi frantumi di, diciamo, di essere sottomesso a questo sistema, dopo anni di lavoro, sacrifici che uno fa, perdere la dignità a tutti i costi, diciamo, te la fanno perdere. E ai tuoi figli cosa consiglieresti? I miei figli, innanzitutto, diciamo, io come iniziativa di lotta continuerò ancora a lottare. Continuerò ancora a lottare per i miei diritti e per i diritti dei nostri figli, perché anche loro subiranno queste conseguenze come stiamo già subendo noi. E oltretutto loro ne avranno un bel da fare, perché proprio tempo fa le televisioni dissero che il lavoro è carente, no? Ce n'è poco di lavoro, quel poco che c'è, sono, salutino, c'è, come diciamo, lo distribuiscono l'uno con l'altro. Però hanno fatto una statistica che hanno detto che i giovani, in un futuro, in un futuro, quel poco lavoro che c'è, diventeranno sempre più poveri. E quindi non avranno più un'iniziativa, diciamo, anche per loro per crearsi un futuro, perché sarà sempre un futuro, diciamo, losco, diciamo. Per loro diventa un futuro molto preoccupante, molto preoccupante, proprio sul lato, cioè, sulla posizione del lavoro, che non è abbastanza consistente come era una volta. Quindi tu sei andata a Roma anche per questo, diciamo? Sei andata a Roma, appunto, per protestare, appunto, contro la manovra governativa, la crisi, contro Marchion, contro la globalizzazione. Sei stato anche tu a Roma? Io non ci sono stato a Roma, però ho seguito tutti gli eventi che ci sono stati, della manifestazione, e penso che è stata una bellissima manifestazione, nel senso, dopo tutti i fatti che sono successi, diciamo, degli incidenti che hanno provocato questi black bloc qua, hanno scombusolato un po', diciamo, la manifestazione, però, tutto sommato, diciamo, quella manifestazione era garantita e doveva essere fatta questa manifestazione, proprio perché, cioè, per sopprimere questo sistema, diciamo, mondiale, che non va, la globalizzazione, tutti gli effetti dell'euro, sulla manovra economica, soprattutto, che ci hanno aumentato tutto, ci hanno toccato dai cedi medi ad andare a finire chissà dove, però, perché hai portato tuo figlio a Roma? Mio figlio non è che l'ho portato io, è voluto venire anche lui, perché appunto lui condivide con me le lotte, e a me fa piacere che così crescendo anche lui vede la vita con me, che dura. Sei speranzosa per la vita dei tuoi figli? Sì, molto. Io altrettanto non sono speranzoso, perché... Sei un po' pessimista. Io penso, sì, io penso che comunque loro avranno vita dura da trascorrere con gli anni a venire. Non c'è futuro per i giorni, assolutamente. E' finita l'appellino? Finita? No, 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 sì, certo. Presentati. Io sono Lembo Michele, sono operario della Fiat Vina Fiori, lavoro in questa fabbrica, lavoro, per adesso lavoro, poi non si sa in futuro se la vogliamo ancora, e sono sposato, due figli, vivo a Torino, e... Tu sei? Io sono Rosaria, lavoro in Vira Fiori, carrozzeria, illustratura, e sono sposata, ho tre figli, e...